No, no, non potete! No, il controllo è regola, non potete! Io voglio le pistoline! No, ho lanciato il corno, dobbiamo starlo! Dai! Hai rotto! Lasciatemi giocare! T'ammazzo! Ciao! Comunque è figa questa cosa delle armi! No, bastardo! Appena scende devi correre come un non domani! Un non domani! No, non ti piace dai! Mori! Sta zitto! No! No! No, bastardo! Ahia! Ah! Ciao! Ciao! Oh no! Ciao! No! 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 è già morto aiuto andiamo verso la fortezza di Sam di Sam di Sam? ah giusto non è che lo fiuti eh ciao no bastardo che giocata no questa è stata bella cazzo dai non potrò mai la bomba la bomba la bomba non l'ho vista aspetta arrivo muori nooo l'hai cercato tantissimo no ancora no fa tutto da solo no vado no ma mi restano ancora due vite ma dai ti batto devo batti eh no 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 oh mio dio mi dici questi cosi no feu feu no 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 ciao aiuto merda merda mi sono cagato addosso spolliciatemelo tutto condividetemelo tutto commentatemelo tutto iscrivetevi al canale di nox iscrivetevi al canale di sound iscrivetevi al canale di 5dj quindi dicevate la fortezza di Sam di Sam di Sam ah giusto hola